Re Carlo III ora vuole il testo del DNA. Harry potrebbe non essere suo figlio. Ovviamente le voci giravano già da tanto tempo, anni di scandali hanno alleggiato su Buckingham Palace e uno di questi potrebbe essere il fatto che, diciamo, il gossip aditava da tanto che il principe Harry potrebbe non essere figlio suo ma figlio, diciamo, di Diana, ovviamente, della sua guardia del corpo. E ora che è morta la regina Elisabetta II e ha lasciato, diciamo, comunque una cospicua eredità il nuovo re Carlo potrebbe, sembrerebbe che voglia, diciamo, verificare se veramente Harry è il figlio suo o invece è il figlio di Carlo e James Ewitt, l'ex, diciamo, guarda del corpo della regina. Infatti, appunto, viene riportato che Harry, cioè che Ewitt, la guardia del corpo, avrebbe avuto una relazione con Diana prima del 1985 e quindi bisogna verificare questo. Ora, re Carlo avrebbe comunque dato credito, ora che è morta la regina, a queste voci e quindi vuol chiarire la questione facendo fare un test del DNA a Harry. Se l'esito di questo test, diciamo, verificasse che Harry non è figlio suo Carlo potrebbe non solo diserdare Harry totalmente, ma anche i nipoti i nipoti, cioè i figli che sono Archie di 3 anni e Lilibet di 15 mesi che sono figli di Harry e Meghan Merkel. Per ora, diciamo, si tratta soltanto di rumors, ma sembrerebbe che Carlo, adesso che è morta la madre, probabilmente prima era frenato dalla presenza della regina Elisabetta, dalla paura, forse di... forse non è una cosa non voluta dalla regina Elisabetta, ma ora che lui e il re, credo che quello che, da quello che si dice a quello che si sente, voglia finalmente fare chiarezza su questa storia per definire una volta per tutte, diciamo, se Harry è figlio suo oppure no. Vedremo come andrà a finire. Seguimi su Instagram, YouTube e TikTok. Ciao a tutti!